essere connessi. Parte 1. 9 aprile 2016. Saluti miei cari, sono Crayon del servizio magnetico. Quello che vi vorrei presentare questa sera può essere frainteso. Sono informazioni avanzate e possono creare confusione. Così chiedo al mio partner di andare piano e di usare gli esempi che gli do. C'è qualcosa di bello che sta accadendo ora in questa sedia e si chiama connessione. La ragione per cui il canalizzare è così controverso su questo pianeta, è perché ci sono così tante persone che dicono che non è possibile. Più di questo dicono che non è una cosa appropriata, ed è pieno di quello che chiameremo il pregiudizio dell'umanità contro di esso. Il fatto è che il mio partner è con esso e abbiamo parlato molte volte di questa connessione. Lui si mette da parte, letteralmente prende la sua coscienza e la fonde con la mia, permettendomi di usare ogni parte di lui per il messaggio, ma lui non è qui. Molto tempo fa disse che non avrebbe permesso alcun subentro e io gli ho detto che non c'è alcun subentro nella nuova energia. Quelli che andavano in trans 30, 40 anni fa invecchiavano veramente durante la canalizzazione perché accadeva il subentro e alcuni di loro si esaurivano, perché quello che stavano facendo non era una fusione, era lavoro. Era un subentro. E ora non lo è? Sapete chi conosce questo in modo specifico? Sono gli operatori di luce, i guaritori, i lettori quando vanno in quel posto dove ricevono il flusso dell'intuizione che dice loro dove toccare una persona e dove toccarla al meglio, cosa dire a una persona quando gli fanno una lettura. A un medico intuitivo cosa dire quando vede lo schema di una Merkaba. C'è un momento di silenzio, dopodiché ricevono attraverso la connessione. E quello di cui voglio parlare è questa connessione, perché è diversa da quello che pensate. Le cose stanno diventando più sofisticate. Le cose esoteriche stanno arrivando a un punto in cui il discernimento diventa necessario in ogni circostanza. Dentro di voi miei cari, in ogni pezzo e parte della vostra struttura cellulare, c'è questa piccola molecola di DNA. Quando abbiamo scritto i dodici strati del DNA, abbiamo parlato di questo. Che dentro di voi, a qualche livello che non può essere misurato chimicamente, c'è la credenza che ci sia una sorgente creatrice e che sia più grande di voi. E la prova di questo è nelle civilizzazioni, perché per quanto indietro voi andiate, gli antichi credevano che ci fosse qualcosa di più grande. C'era qualche tipo di creatore da qualche parte. C'era ogni genere di credo e ogni genere di culto, ma la cosa che avevano in comune è che intuitivamente sapevano di venire da qualche altra parte. Perciò quello che sto dicendo è che dentro di voi, nel vostro DNA c'è quello che chiameremo il complemento spirituale, per farvi capire che c'era una sorgente creatrice e che voi ne siete parte. Questa comprensione intuitiva è responsabile di tutte le religioni del pianeta. Non avete nessuna difficoltà nel crederlo. Quelli che non credono assolutamente in Dio sono una piccola minoranza. La maggior parte del pianeta conosce l'unico Dio. E se questa prova non è abbastanza, non c'è nient'altro. È intuitivo, succede dentro e, miei cari, sta cominciando a crescere. Da un lato, sta cominciando a diventare più elegante e dall'altro più incompreso. Quello che intendo con questo è che la vostra Terra e questa vostra umanità sta cominciando a cambiare e stanno cambiando tutti, non solo gli operatori di luce. Non solo le anime antiche. Ma con il cambiamento della griglia magnetica di questo pianeta, con il fatto che il vostro pianeta si sta muovendo in un nuovo posto. Letteralmente. Il sistema solare si sta muovendo in un nuovo posto attorno alla galassia, che è pieno di energia che non avete mai visto prima. Alcuni stanno cercando delle radiazioni che vi fanno paura e che influenzano il Sole. Tutte queste cose sono una confluenza di energie che cambieranno l'umanità. Che cambieranno il modo in cui pensate, il modo in cui sentite, cambieranno la percezione e i pregiudizi. E tutta l'umanità è coinvolta. Ora, le anime antiche, quelle che sono state là e l'hanno fatto, sono quelle che capiscono perfettamente perché. Cosa sta succedendo? Voi siete quelli che saranno i loro insegnanti quando verranno da voi al lavoro, nel gioco e nella famiglia. Voi siete quelli. È il motivo per cui state ascoltando questa canalizzazione. È un compito che non sarà difficile se non avrete paura. Ma voglio che comprendiate la connessione, perché diventerà quello che chiameremo alcune difficoltà. In questo pezzo di DNA di cui stiamo parlando, nel DNA stesso, c'è una parte che è multidimensionale. Il mio partner ha parlato di questo, i biologi quantistici lo conoscono. Quella parte del DNA è un po' più di quello che pensate. È stato mostrato e provato, con esperimenti, e cito il mio partner quando dice che la presenza del DNA cambierà la rotazione, cioè lo spin, di una particella atomica in un campo quantico. E questo vi dice che c'è una causa ed effetto, che sono quantiche. L'ultima volta che siamo stati insieme vi ho dato una canalizzazione che dice che non potete avere un'azione quantica senza una sorgente quantica. Se volete avere una nuova invenzione quantica deve provenire da una sorgente quantica. Non può esserci una sorgente 3D che crea un effetto quantico. Questo oggi si riassume in sostanza nel fatto che il vostro DNA ha un attributo quantico e potete creare effetti quantici. La coscienza umana sta cominciando a maturare e comincerete a fare cose con la vostra coscienza che spaventeranno gli altri e la prima è la capacità di ringiovanire e di curare le malattie in voi, principalmente voi. Comincia con voi per primi e poi si estrapola agli altri mentre crescete nella vostra coscienza. Ma, miei cari, comincia con voi. Ora, vi ho appena detto qualcosa. Ho detto che questo è per tutti. In più vi dirò che non sarà ovvio come funziona. Sta semplicemente per succedere. Quando comincerete ad avere intuizioni migliori e comincerete a usare intuizioni migliori e la gente verrà da voi e vi chiederà. Cosa stai facendo? Sta funzionando. Voi non avrete una risposta. Non direte ho fatto questo e quello. Sarà semplicemente là. Voglio usare un esempio. Ed è una metafora. Ed è qualcosa che molti di voi ricorderanno e capiranno. E questo esempio parlerà di uno dei vostri mammiferi preferiti. La balena. Le balene navigano verso il loro posto di riproduzione e verso il loro posto di nutrimento. Con il magnetismo. Nel sistema delle balene c'è qualcosa che avete chiamato magnetite. Si interfaccia con la loro coscienza e nella loro logica e nel loro cervello per diventare un intuitivo sistema per cercare la direzione. Hanno una bussola. E le balene non sanno di avere una bussola. Semplicemente vanno con l'intuizione. Per darvi la prova di ciò, torno indietro di vent'anni. Potreste ricordare che molte balene si spiaggiavano con regolarità. Alcune di loro persino in questa costa. E c'era la preoccupazione di molti. E la cosa strana riguardo a ciò è che le balene non volevano farsi salvare. Una balena arenata veniva trascinata per la coda nell'oceano e rilasciata. Sulla barca erano tutti felici, solo che la balena tornava di nuovo ad arenarsi. Cosa stava succedendo là, miei cari? Ve l'abbiamo detto. La griglia magnetica, che è quel nord verso cui la bussola punta, si era spostata. E quando si è spostata, le balene non lo sapevano, semplicemente seguivano la stessa linea magnetica di influenza che hanno sempre seguito verso i posti per mangiare e per riprodursi. E quando la griglia magnetica si è spostata, alcune linee si sono spostate fino a toccare la terra dove non l'avevano mai fatto. E le balene semplicemente finivano sulla terra, laddove prima, per loro, c'era l'oceano. Questo mostra anche quanto la griglia magnetica si sia spostata in quei pochi anni. Le balene impiegarono un'intera generazione o più per comprendere il nuovo percorso e continuare a muoversi. E oggi non si spiaggiano come hanno fatto allora. E perché vi sto dicendo questo? Fingiamo per un momento che le balene abbiano un po' più intelletto di quello che pensate, che possiate intervistarle e scoprire cosa pensano e cosa sta succedendo. E se domandaste, cos'è, signor balena, che vi permette di navigare verso questi due posti per mangiare e riprodurvi. In tutto il pianeta, sembra che sappiate dove state andando. E la balena risponderebbe, non ne ho idea. Semplicemente lo facciamo. Miei cari se qualcuno vi chiedesse, come fate a sapere che c'è un Dio? Cosa rispondereste? Semplicemente lo so. È lo stesso. È intrinseco, è innato. È là, siete voi. È il pezzo di Dio del Creatore dentro di voi. Perché voi lo capiate, devo dirvi che c'è veramente un pezzo del Creatore in voi. Non c'è un ricordo, non c'è un cordone d'argento che vi connette. No, c'è una parte dell'energia creativa in voi. È per quello che vi sentite così tanto a casa quando arrivate in un posto, vi invito ad andare in quel posto, in cui voi siete connessi. E la triade sta funzionando, ossia il cuore, ghiandola pineale e il cervello, e sono tutti bilanciati e voi vi state svegliando a questa parte del vostro DNA. Sospendete ogni cosa, non invecchiate nemmeno. E sapete che la connessione è vera, questo è il punto, e potreste sedere in lacrime di gioia per, il fatto di, avere una tale connessione con ogni cosa. Ogni cosa che è, siete voi. Siete così parte della creazione che lo sapete. Lo sapete e lo riconoscete. E ci sono molti che possono andare là e stare là. Specialmente in questa nuova energia. E questo è ciò che voglio dirvi. Altri sentono questa connessione e stanno cominciando a usarla. Ma non ha nulla a che fare con la sorgente creatrice. Vi farò una domanda ora, è una domanda retorica e potete rispondere nella vostra mente. Una persona che piega i cucchiai è spirituale? Pensate un momento. Loro devono avere recuperato la parte multidimensionale del loro DNA quantico, l'hanno messa nella loro coscienza in modo da individuare ciò che può cambiare la fisica. Lo possono fare. È vero. Così la loro coscienza sta lavorando a un livello molto alto per influenzare il metallo del cucchiaio. E lo possono fare e rifare. E la gente li guarderà e alcuni li adoreranno perché hanno qualcosa che ovviamente viene dall'alto. E questo è ciò che voglio dirvi. Potete fare tutto questo e non essere spirituali. Potete fare tutto questo e non essere nemmeno connessi. Andiamo un po' più sul personale. C'è un maestro guaritore sul pianeta che può manifestare cose, può guarire molti, che conosce veramente il corpo umano, che può persino fare procedure di meditazione prima delle sessioni di guarigione, e che forse è molto famoso. Questa è una metafora. Non sto parlando di una persona. Vi sto dando una metafora e voglio che voi vi fermiate. La persona è connessa? E voi direte. Beh, deve essere connessa. Devono guardare quello che fanno, quello viene da Dio. Vi voglio dire da dove viene. Viene da una nuova coscienza umana che sta cominciando a maturare e ad avere un'efficienza più elevata e a cominciare a utilizzare quella parte quantica e multidimensionale che può cambiare la fisica e che può vedere i modelli e aiutare la gente. E tuttavia possono non essere connessi. Questo riguarda il discernimento più di quanto non sia mai successo prima. Torniamo alle balene. Improvvisamente ci può essere un cambiamento, diciamo. Questa è una storia, è una metafora. E potrebbe esserci una balena che comincia a diventare più intellettuale e quella balena dice. Guarda, ho qualcosa dentro, è quasi una bussola e invece di quell'automatico andare verso luoghi del nutrimento e della riproduzione, la balena dice. Andiamo semplicemente a est o ovest o nord o ovest o nord est per un po'. Solo perché vedere cosa c'è perché io ho una bussola. E posso in ogni momento tornare indietro ai luoghi del nutrimento e della riproduzione. E così la balena fa una curva a sinistra, una curva a destra. E va ad esplorare. Le balene non lo fanno mai. Seguono un percorso che ha a che fare con la loro sopravvivenza. Questo è ciò che fanno, è per questo che le potete sempre trovare negli stessi posti. Hanno una bussola che è automatica. Ma diciamo che alcune di loro abbiano deciso che possono fare qualcosa di diverso. Questo rende la balena veramente diversa? Ora possono esplorare con qualcosa che è innato in oro, che è fatto per mangiare e riprodursi. Miei cari quello che è fatto per voi, che è dentro di voi, è un pezzo di DNA multidimensionale, che è pensato per essere connesso alla sorgente centrale usando la triade. E ora sapete perché la triade esiste. Vi diamo di nuovo questa informazione. Che l'essere umano completo, quello che è completamente connesso, può fare tutte le cose che ho indicato, ma la più grande di queste è l'amore. Saranno il cervello logico, il cuore umano e la ghiandola pineale in un modo bilanciato. La ghiandola pineale è quella che percepisce e riceve l'energia e l'assistenza dal DNA quantico della sorgente creatrice. Ascoltate. Se spazzate via la ghiandola pineale e non la usate, se sopprimete il cuore, siete completamente cerebrali, ma potete ancora usare quello che è il DNA multidimensionale. In questa nuova energia saranno in molti che si mostreranno e sembreranno fare molte cose che vanno oltre quello che gli altri possono fare e lo faranno in un'apparenza di spiritualità, ma non sono connessi. Questo fa parte dei nuovi problemi, rompicapo e questioni. Ve l'abbiamo detto. Comincerà a verificarsi. In una nuova energia dell'umanità, questo, non è un uso sbagliato, miei cari, può non essere nemmeno fatto apposta, è semplicemente ignoranza. Non lo sanno. Non sono connessi. Come potrebbero sapere? E dove potrebbero scoprire la triade? Vi dico qualcosa, anime antiche. Quasi tutti in questa stanza sono connessi, perché attraverso tutte le vostre vite, come la balena, avete avuto la bussola e potete andare in ogni direzione vogliate. Avete imparato ad usarla e siete connessi. E non state facendo qualcosa che avete già fatto molte volte in un modo solo, ora vi state espandendo. Non avete solo nuotato più velocemente in una linea, avete deciso di sperimentare, per andare in posti in cui non siete mai stati. Come la balena intellettuale, che comprende il suo potere e va ad esplorare. Altre balene possono avere un senso migliore per andare più velocemente nei posti di riproduzione e nutrimento, possono nuotare al doppio della velocità di ogni altra balena e le altre balene osservandole dicono loro, tu hai un dono. Vogliono il dono. Ma non sono connesse. Perché non hanno ancora capito che hanno una bussola e che possono andare dove vogliono. Loro possono solo andare più velocemente in linea retta. Questo può essere un messaggio criptico per voi, se non capite o non siete connessi. Ma il più grande di questi, doni, è l'amore. Si suppone che arrivi come un pacchetto. Il guaritore che è veramente connesso avrà un aumento esponenziale nel potere di guarigione. Quando è veramente connesso. Alcuni stanno solo facendo dei giochi e piegando il metallo. È solo un giocare a piegare il metallo. Ma possono anche essere connessi. Quindi, come fate a saperlo? Perché il più grande di questi, doni, è l'amore. Miei cari, ogni persona connessa mostrerà la propria benevolenza, la propria gioia e il proprio amore nella loro vita. State in guardia dai guaritori frustrati e arrabbiati. State in guardia dai frustrati e arrabbiati piega a cucchiai. Se sono arrabbiati, non bilanciati o sconvolti non sono connessi. Non è così difficile. Ma vedrete sempre più di questi casi. Quelli che dicono che canalizzano e c'è drammaticità. Quelli che dicono che canalizzano e sono frustrati e sono arrabbiati e lo puoi sentire nella loro voce. O sono esigenti quando canalizzano. O vi dicono di fare cose che non volete fare quando canalizzano. Non sono connessi e quindi direte. Beh, se non sono connessi chi canalizzano? Scopritelo da soli, spesso sono loro stessi. Il loro sei frustrato che esce e vi dà messaggi. Ma il più grande di questi messaggi è l'amore. Non è difficile. Ce ne saranno di più, miei cari. Molte canalizzazioni da discernere. Non è difficile. Cercate la vera benevolenza, la benevolenza nascosta, non quella che vi mostrano, ma quello che sono. Guardateli vivere la loro vita e sarà quella basata sull'amore e sulla gentilezza. Non è così difficile. E questo è quello che la triade produce. Anime antiche, che ascoltate questo e, che siete, in questa stanza, non c'è mai stato un tempo migliore per voi per connettervi. Se state mostrando paura e frustrazione in questo momento vorrei che capiste che state pensando troppo. Il vostro cervello è pesante. L'abbiamo già detto prima, il cervello deve essere coinvolto nella triade, è uno strumento di sopravvivenza. Dovete camminare nel pianeta e sopravvivere, ma il cuore e la ghiandola pineale sono quelle che stanno cominciando a lavorare insieme con il cervello per creare una coscienza più elevata dove la sopravvivenza è una cosa diversa. La sopravvivenza ora non è scappare dalla tigre del Bengala, la sopravvivenza ora è comprendere che la più grande di queste cose è l'amore, che, mentre camminate su questo pianeta, la nuova sopravvivenza è presentare la vostra maestria. Ovunque camminiate, Gaia lo sa che un maestro sta camminandola e voi direte non sono un maestro, non veramente. Dove avete preso questo? Chi ve l'ha detto? State ripetendo qualcosa che avete imparato da qualcun altro o forse i vostri genitori? State pensando che sia da spacconi che voi portiate l'amore di Dio? Pensate che sia l'ego a guidarvi a portare l'amore di Dio? Non lo è? Voglio che camminiate a testa alta sapendo che lo meritate, che potete vivere qui e comprendere che la vostra coscienza può cambiare tutte le cose nella vostra vita, persino la guarigione che volete. Che potete controllare più di quello che avete mai controllato. Non lasciate che siano le situazioni a definirvi. Mai più. Lasciate che sia Dio a definirvi. Lasciate che il pezzo che è multidimensionale e connesso alla triade vi definisca. Quando la vecchia energia si presenta, come spesso farà, non lasciate che vi definisca. Potete frantumare la vecchia energia con uno sguardo d'amore. Mi avete sentito? Con uno sguardo d'amore. Con la benevolenza e un cuore puro, la vecchia energia scapperà da voi. Non vi vuole vedere là, perché la vecchia energia non può fare un dramma quando siete là. Lo sapete? Non può. Tutti i sistemi con la gente, con gli esseri umani che conoscete, che girano nella vecchia energia cambieranno strada quando vi avvicinate, perché voi non sarete parte della loro rotazione. Lo sanno. C'è uno scontro, più di quanto non sia mai stato, tra la vecchia energia e la nuova energia. È quello che sta capitando nel pianeta, proprio ora. Non potete avere un'energia barbarica quando la luce comincia a essere accesa. Correranno nella direzione opposta, grideranno e urleranno. La vecchia energia non vuole morire, e tuttavia la sua morte è imminente. Con il passaggio della precessione degli equinozi e la conclusione di tutti i nuovi calendari e delle profezie, la palla di neve della realtà sta scendendo dalla collina verso la pace nel mondo e una coscienza più elevata e nel processo molti di quei sistemi che non hanno integrità crolleranno miseramente. Questo causerà problemi nel cambiamento, finché non arriverà un tempo in cui le cose si calmeranno. E le anime antiche saranno lì per tutto questo. Siete la prima linea per tutto questo e tutto quello che dovete fare è esserci, perché la più grande di queste cose è l'amore. Voglio che lo percepiate, che lo dichiariate e che lo sappiate e che capiate che la connessione tra il cervello logico della sopravvivenza e la ghiandola pineale, per la ricezione e la trasmissione di messaggi meravigliosi e di energia, e il cuore, che controlla la compassione e la benevolenza, possono lavorare insieme in un modo stupendo, per creare esseri umani equilibrati, che sanno chi sono e che sanno che il creatore è dentro. Non c'è nessuna frustrazione quando accogliete l'amore di Dio. Non c'è sacrificio quando accogliete l'amore di Dio. Ci sono voluti quattro anni per convincere il mio partner, quando ha iniziato a sedere sulla sedia, che era ok canalizzare. E tutto ciò che lui oppoleva come obiezione erano i pregiudizi che aveva imparato, nei pochi anni che aveva vissuto. E quando finalmente ha lasciato cadere quelle obiezioni e mi ha fatto entrare, tutto è cambiato. E ve lo dirà. Tutto è cambiato. Invito tutti voi a lasciare che tutto cambi con il suono di questa voce e a riconoscere i pregiudizi per ciò che sono. Quello che vi hanno detto gli altri forse è reale o forse no. È vero? È la realtà? Prenderete per buone le parole di qualcun altro e chiuderete la porta a Dio? Non è affatto pensabile. Le cose si stanno modificando e stanno cambiando. Chiedete alle balene. E questa non era una metafora. E così è. Grazie a tutti. Grazie a tutti.